l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un del cogito alla volta simona io vedo in te una preoccupazione che pervade anche i miei giorni della preoccupazione di vedere una civiltà quella che amiamo tanto quella di cui facciamo parte di cui siamo anche partecipi in qualche modo auto sabotarsi di giorno in giorno con una serie di concetti e discorsi che vengono spacciati come innocenti addirittura benefici quando in realtà secondo me e sono certo anche secondo te sotto ribolle qualcosa di dannoso appunto di auto lesionistico in questi giorni l'abbiamo visto nelle piazze in discorsi che possono anche essere condivisibili da un certo punto di vista che però poi prendono dei lati assolutamente estremisti il discorso sulla violenza contro le donne diventa una disumanizzazione di una certa categoria e poi si mescolano anche discorsi politici che creano anche molta confusione allora vorrei discutere con te di questo perché da filosofo a filosofo andare ad analizzare questi concetti per capire un po quali sono le reali conseguenze di certi atteggiamenti credo sia importante in quanto credo anche nei media mainstream le conseguenze di queste cose spesso sfuggono quindi com'è che la vedi tu intanto credo che una categoria che viene messa in discussione proprio da questo tipo di comportamenti mediatici è la categoria di comprensione noi siamo sempre più poveri di comprensione e sempre più tarati su un paradigma che è quello del giudizio il giudizio non significa analizzare dei fatti ma cercare piuttosto che la causa dei colpevoli in questi discorsi hanno sempre in comune quello di trovare un colpevole che è una modalità di regressione perché trovare un colpevole significa tornare a quando nella grecia antica la parola haitia invece di significare causa significava un colpevole e il colpevole significa costruire una società dove ci sono degli inquisitori ci sono dei colpevoli e ci sono dei pentiti se voi guardate il discorso soprattutto di questi giorni attorno ad un tragico fatto di cronaca è quella di un discorso che non ha puntato a comprendere realmente le cause di una cosa che si perpetua e va avanti da molto tempo cioè una serie di donne uccise in maniera assolutamente criminale e drammatica ma piuttosto quella di individuare dei colpevoli e chiedere alla parte maschile non azioni non di evitare azioni ma di confessare una colpa di tipo strutturale certo ecco quindi questo panorama secondo me è preoccupante per il tipo di modalità di pensiero che mette in atto faccio un esempio uno dei grandi grecisti del novecento scrisse nel 1951 questo testo che si chiama i greci l'irrazionale dove identificava nell'ilia dell'odissea la cultura della vergogna e la cultura della colpa legati a queste due culture però c'erano delle azioni cultura della vergogna provocava un'azione un fare è Ettore che va ad andromaca e dice io devo andare in battaglia anche se tu soffrirai perché ne va del mio onore quindi devo fare delle azioni onorevoli dall'altro abbiamo nell'odissea nausicaa che di fronte a odisse vuole evitare certe azioni per non essere colpevoli oggi siamo in una società che di fronte ai problemi non chiede di fare o di non fare ma di confessare qualche cosa e questo è un paradigma a mio avviso pericoloso sulla superficie quindi abbiamo questa costruzione sotto ribollono delle pulsioni che nessuno vuole vedere possiamo scommettere che il risultato di questo combinato tra colpevoli pentiti inquisitori e pulsioni rimosse risulterà esplosivo sono d'accordo sono d'accordo cercheremo un po di scandaliare questa sera questo questo tipo di concetti peraltro io ti ringrazio di essere qua perché insomma io e te ci conosciamo da un po di anni abbiamo una storia alle spalle legato soprattutto a pop sofia alle conferenze in giro per il centro italia magari però le persone che seguono non ti conoscono quindi se vuoi presentarti di quello chi sei e di cosa ti occupi allora io mi presenterò nell'unica maniera in cui un filosofo si può presentare auto autorizzandosi assolutamente come i poeti cosa fai scrivo poesie per mia moglie sono un filosofo mi auto autorizzo a dire questo non tutti i laureati i docenti di filosofia si auto autorizzano auto autorizziamoci quando crediamo davvero in quello che facciamo no perché l'altra modalità è quella la finta modessi cioè no no sono filosofo e mi prendo la responsabilità delle parole che dico insegno in irpa che l'istituto di ricerca di psicoanalisi applicata di milano e di ancona diretto da massimo le carcati collaboro con la olden di torino e scrivo recensioni per la stampa il cuore di tutto questo è appunto la mia passione quella che condividiamo insieme che alla base di pop sofia c'è una filosofia che riesca a pensare il proprio tempo a parlare un vasto pubblico che c'è da le chiusure e che c'è da anche le riduzioni ideologiche perché se c'è una cosa che condividiamo credo io e te che vediamo nel nostro tempo è una filosofia che invece di essere fedele alla parresia e dire la verità anche se è scomoda anche se la paghi anche se è controtendenza diventa quella che Nietzsche chiamava canzone da organetto perché se suoni la canzone da organetto sei tranquillo di avere il tuo consenso le tue ospitate sei neutrale e neutralizzato mettiamola così e questa è una cosa che secondo me io se uno deve far filosofia in quel modo è meglio allora mettersi a cucinare salsiccia in alabama quindi questo è un po' quello che mi sentirei di dire e tornando al discorso che facciamo all'inizio perché credo che sia un punto molto interessante quello che io ho visto anche in questi giorni ne ho parlato pubblicamente quello che io vedo in questi movimenti in questi tentativi di cercare un colpevole di creare una anche una rassicurazione ok guardate abbiamo capito in realtà denota una totale incapacità di ammettere il noccio della questione che al fondo dell'animo umano ci sono quelle pulsioni di cui la filosofia parla da sempre da Spinoza a Socrate a tutti quanti e che in realtà sfuggono al nostro controllo ciò che ci spaventa di fronte agli eventi di cronaca di questi giorni è il fatto che di fronte allo specchio noi siamo sempre portati a vedere che ci piaccia o meno quegli aspetti che nella cronaca si manifestano in modo violento e quegli aspetti sfuggono al discorso razionale e allora si cerca di produrre in quest'epoca in particolare un discorso che è puro discorso non ha azioni non ha concretezza quindi un puro discorso che ci permetta di acquietarci di dire guarda in realtà abbiamo capito la questione è semplice e noi abbiamo la soluzione e questo in realtà va per perpetrare la violenza perché la violenza è comunque frutto di un'incomprensione irrisolta hai detto una cosa che trovo assolutamente giusta vale a dire che ci rassicura trovare dei colpevoli c'era un bellissimo libro di un po' di anni fa di uno psicanalista junghiano che si chiama Speziale Bagliacca che si chiama colpa e diceva guardate che dietro l'idea della colpa che in realtà una logica una struttura quasi filosofica c'è un desiderio di ogni potenza perché perché se io so sempre di chi è la colpa anche quando mi auto in colpo il problema è risolto è immediatamente compreso e esorcizzato il fatto di non avere immediatamente un colpevole al di là di chi materialmente fa l'atto ma non individuare nella società la struttura di colpevolezza il sistema culturale da cambiare le ore da sostituire a scuola significa dover gestire un'ansia e quell'ansia che è provocata dalla comprensione noi dobbiamo capire almeno una cosa che per comprendere eventi di questa complessità noi dobbiamo sapere gestire l'ansia di non comprendere che poi è l'inizio della filosofia il famoso io so di non sapere socratico non era un attestato di modestia era proprio che lo sforzo di comprensione parte da una base di non sapere non dal fatto che ho già una risposta e adesso la applico ogni volta a qualsiasi evento e avrò immediatamente le chiavi in mano per la risoluzione e per il paradiso perché poi ti prometto che se cambi quella cosa lì immediatamente tutto andrà bene questa è una favola faccio un esempio perché quando è evidente che non siamo in una società patriarcale nel senso proprio perché non viviamo fortunatamente in Iran si è ripetuto che viviamo in una società patriarcale che il problema è la società patriarcale qualcuno potrebbe dire no ma è detto in senso metaforico metaforico lato però è interessante che ci sia questa esigenza quando tante femministe parlano di società post patriarcale di ripetere questa formula perché perché significa dire guardate che c'è una struttura dietro forte che produce tutti i soggetti maschili quando poi fanno degli atti criminali sono colpevoli ma tutti sono responsabili perché inseriti in questa struttura non a caso il gesto è stato anche di filosofi che insieme a grandi pensatori tra cui l'attore claudia mendola il cantante piero pelu si dichiarano immediatamente colpevole di cosa noi siamo colpevoli di azioni e di parole pronunciate o fatte del resto non abbiamo colpevolezza questo è un paradigma da peccato originale cioè tu sei colpevole di qualcosa che non hai fatto e detto ma c'è una struttura che ti determina ora noi dovremmo avere almeno chi fa filosofia studiato che tanto pensiero del novecento ci ha spiegato che i processi di soggettivazione cioè quello che diventiamo sono un lavoro faticoso complesso arduo e bellissimo per costituirci come singolarità perché le strutture come non scendevano in piazza nel 68 lo scrivevano sui muri non producono né azioni né soggetti il patriarcato è una favola per fortuna non viviamo in una società patriarcale questo non ci rassicura il patriarcato ci rassicura perché se dico che è un costrutto culturale lo cambio con un po' di ore a scuola e poi andrà tutto bene guarda in realtà quello che non ci rassicura peraltro c'è un bel libro che ho letto in queste giorni di Miguel Benazayag che è la società dell'intranquillità o l'intranquillità una cosa del genere è veramente un bellissimo testo un instant book quasi quindi lo consiglio veramente lui dice a un certo punto la maturità di un individuo è quella di rendersi conto che la vita è navigare a vista e quando navighi a vista significa che le formule utilizzate magari in passato anche con profitto non possono essere applicate oggi se non al costo della comprensione di quello che sei e l'ammissione di questa incertezza di questa intranquillità deve diventare da un qualcosa che ci frena che ci porta appunto adottare quelle formule antiche al cercare invece di creare nuove formule oggi siamo in un mondo nuovo quello che sta succedendo nel mondo e anche dentro di noi non l'abbiamo mai visto faccio solo un esempio il connubio fra la violenza scatenata nella guerra in Ucraina o in quella in Medio Oriente e il legame con la comunicazione di massa è una cosa di cui non si è mai vista neanche lontanamente ombra in passato questo ci richiede di ripensare il modo con cui abbiamo gestito queste cose in passato certo conoscendo la storia e apprendendo alcuni metodi ma non pensando di applicare cose passate all'oggi e come dicevi tu il patriarcato c'è stato certo c'è ancora oggi in alcune zone del mondo che spesso però dimentichiamo perché ci fa comodo però pensare che quella sia la formula per affrontare il presente significa farsi sfuggire completamente in virtù di questa tranquillizzazione oh ho capito che bello si tratta anche di provare a dare dicevi tu nuove spiegazioni che siano ad esempio parziali non totalizzanti è stato un grande difetto delle ideologie quelle di spiegare tutto io vi do una visione del mondo dove tutto torna dal privato al pubblico al futuro tutto torna e se tu crei e credi in questo modello perché ci devi credere è un atto di fede tu avrai una certezza vitale c'è anche gente che sta benissimo a passare la vita così noi lo abbiamo visto le grandi ideologie del novecento ti davano una sicurezza assoluta a un prezzo che di fronte alla realtà tu devi non vedere denegare di vedere certe cose perché tutto vada bene per quanti anni militanti comunisti hanno negato quello che succedeva in Urso perché? perché non ritornava nello schema avresti dovuto mettere in crisi lo schema poi alla fine la realtà preme e ti rompe gli schemi rompe le ideologie quello che stiamo vedendo che è una violenza efferata maschile sicuramente connotata è però una violenza che è sotto gli occhi di tutti non viene fatta da soggetti che hanno una postura e una forza del patriarcato sono i soggetti che dormono con l'orsetto con l'orsacchiotto peluche come il ragazzo sono spesso figure molto fragili non in grado di reggere la minima frustrazione il minimo no la minima separazione e guardate che la violenza peggiore cioè una forza non controllata è figlia di fragilità la forza non produce mai violenza incontrollata il patriarcato non ha bisogno di quella violenza perché una donna nel sistema patriarcare viene scambiata viene comprata eccetera per fortuna è finito tutto quello per fortuna grazie alle lotte delle donne ma è paradossale che chi ha contribuito a liberare tutti compresi noi dal patriarcato oggi venga a dire e guardate quello è figlio del patriarcato perché è davanti agli occhi che l'evidenza è un'altra e se noi non interveniamo su quella fragilità ma ci mettiamo a fare i corsi a scuola sulla fragilità a non poter usare la parola forza noi continuiamo a inabissarci in una violenza che non verrà fermata da un'ora di educazione sentimentale assolutamente questo è il tema questo guarda mi ha fatto venire in mente una cosa che in realtà è una delle cose tabù da discutere però in realtà secondo me è il contesto giusto per farlo quello che noi stiamo vedendo nel neofemminismo attuale che è quello che è sceso in piazza in questi giorni che è quello che poi fa delle lotte LGBTQ+, eccetera eccetera il suo cuore in realtà dobbiamo renderci conto che è prima di tutto una lotta contro i femminismi passati non è un caso che un comunque simbolo di un certo tipo di femminismo che è J.K. Rowling sia subissata e sommersa di insulti, minacce per le sue posizioni sul mondo trans che possiamo ovviamente condividere, discutere o meno però in realtà c'è un femminismo attuale che vuole soverchiare quello precedente e il discorso del patriarcato che viene ripreso così fortemente in realtà è anche più o meno inconsapevolmente l'idea che i femminismi passati hanno fallito perché come dicevi tu se noi oggi parliamo di patriarcato allora significa che i femminismi degli anni 60-70 quelli che hanno dato veramente hanno ampliato i diritti delle donne hanno permesso l'acquisizione di diritti prima impensabili allora quel femminismo ha fallito ecco è una lotta intestina a un certo mondo a un certo tipo di femminismo questo e prima ce ne rendiamo conto prima riusciremo anche a secondo me collocare alcuni fenomeni nella loro cioè c'è proprio una lotta intestina in questo mondo che bisogna guardare in faccia io devo dire perché qualcuno potrebbe dire ma con che diritto voi vi mettete a parlare di femminismo cosa ne sapete è giusto anche mettere sul tavolo esperienze, carte io ho fatto una cosa strana mi sono preso un dottorato a Parigi 8 in studi femminili erano quasi tutte donne erano docenti che venivano dagli Stati Uniti spesso ho seguito tantissime conferenze di Judith Butler e altre filosofi quindi è un campo che a me interessa molto che studio, che ho studiato è un campo che non definirei al singolare perché è ancora attuale è un campo di femminismi è un campo in conflitto per fortuna perché vuol dire che è un campo teorico sicuramente ricco attenzione perché in questo campo c'è chi parla di post patriarcato non tutti condividono il femminismo LGBTQ eccetera alcune sottolineano che resta ancora ad esempio una differenza di tipo biologico che non è costruita a livello di sesso altre invece sostengono che tutto anche a livello del sesso sia una costruzione di tipo culturale io non credo che occorra stigmatizzare uno di questi femminismi non è compito mio ma non credo sia neanche utile l'unica cosa che invece diventa pericolosa e io stigmatizzo è quando una delle posizioni teoriche in campo che sono molteplici e sono a base filosofica perché uno di questi viene è figlio di un certo decostruttivismo che conosco abbastanza bene avendo studiato con Derrida è figlio della Butler eccetera pensa di porsi come unica risposta possibile di fronte a cui il dissenso teorico viene additato come una colpa morale esattamente è questa questione di prima ecco una postura di questo tipo oggi è pericolosa quando un sapere delegittima i suoi avversari come coloro che sono colpevoli moralmente allora siamo di fronte a una neoreligione non è più un discorso filosofico io sento delle dinamiche che hanno qualche cosa della fede religiosa quando chiedevo in un dibattito beh ma dimostrami che c'è il patriarcato in una discussione filosofica se le argomentazioni dell'altro sono più valide dovresti avere appunto la ragionevolezza di mettere in discussione una tatesi perché riesce a rafforzarla modificando ma se qualcuno ti dice ah ma no ma è evidente se non lo credi è perché sei un maschio eccetera eccetera è una fallaccia naturalmente ecco in questo dibattito noi dobbiamo avere la possibilità il dovere di discutere con tutti i fronti a cui bisogna essere aperti naturalmente perché posso essere avendo un punto di vista parziale connotato anche sessualmente sono un maschio bianco occidentale eccetera sicuramente mi perdo dei pezzi di complessità e ho bisogno di altri compreso quelli delle femministe non ho bisogno invece di un discorso che si pensa come neo evangelizzazione dei costumi e della società perché se c'è una cifra di questi nuovi discorsi è quella di una moralistizzazione della società perché tutto è visto in termini di bene male e di morale questo non ci aiuta peraltro questa visione totalizzante è dal mio punto di vista uno dei fenomeni che poi rende fragile anche la persona che cerca di capire un po' il mondo perché voglio tornare a quello che discutivi prima quando hai detto che secondo me è una grande verità cioè l'uomo che scatena la violenza incontrollata nella stragran parte dei casi è un uomo fragile insicuro che non sa accettare il rifiuto che si è abituato con l'idea di possesso e di pretesa nei confronti della realtà questo è un atteggiamento che prima di tutto rifiuta l'idea di limite tu prima hai detto io sono un uomo bianco occidentale e via dicendo questo denota già una definizione che di per sé mi limita l'idea invece di tu non puoi parlare in quanto così significa che la controparte non ha quei limiti perciò si racconta come illimitata la controparte ha la verità laddove tu hai invece una falsità in questa che è un manicheismo morale di bassissima lega si produce quella inevitabile sensazione di essere inadeguato l'inadeguatezza ti porta a rispondere anche nei confronti dei fallimenti come a un non posso imparare a perché la mia prospettiva è limitata come quella di tutti no sono sbagliato e quando uno si sente sbagliato è inevitabile che di fronte poi alle incertezze agisca in modo disordinato e quel disordine poi rischia nei casi più delicati come quello di la sensazione di non poter mai più avere una persona che ami nella vita può scatenarsi anche in qualcosa di irreparabile in questo sistema comunicativo filosofico si nasconde qualcosa che oggi non riusciamo a comunicare e che coloro che si fanno portavoce di stanze di verità cercano di mettere sotto il tappeto e questo è gravissimo vengo su una cosa che hai detto hai parlato di questo sistema di comunicazione filosofico c'è stato un passaggio della filosofia da un momento accademico a uno nelle piazze oggi è sui social c'è però una postura che comincia a diventare un po' dominante del filosofo nei social che spesso è qualcuno che dice cose edificanti cioè utilizza tutta una tradizione filosofica e la capacità di prenderla dove tu prendi le cose diciamo meno controverse comode comode parlano di sentimenti parlano di fragilità eccetera tu infarcisci di questo sapere diciamo un po' così da baci perugina le problematiche della società questo funziona perché è rassicurante è evidente diventano sostituiamo diciamo quel sapere che c'è pseudo orientale pseudo zen tranquillizzati ascolta questo con Socrate Platone eccetera questa intanto è un'immagine molto sbagliata della filosofia la filosofia è da sempre controversa la filosofia dà fastidio la filosofia viene messa a processo la filosofia l'altra cosa non parla in maniera educata e chiede scusa ogni peso spinto e non confessa qualsiasi cosa Socrate era il tafano ecco perfetto è lui il papà è lui poi faceva il lavoro della mamma faceva la levatrice questo diciamo ed è meglio lavarsi un po' più Socrate e dicono che sia meglio lavarsi qualche doccia in più Socrate si può fare comunque su quello ci si può sempre migliorare in filosofia ricordiamolo però appunto è qualcuno viene messa a processo ma non è che di fronte al processo è no ma io non volevo dire questo non volevo offendere nessuno lui voleva precisamente offendere qualcuno offendere dei costumi sociali metterli in discussione perché la reazione a una parola di verità che brucia che colpisce perché sono tutte metafore che dà la scossa tutte metafore platoniche la risposta è che naturalmente qualcuno si offende ma uno dei prezzi per la libertà di pensiero e di parola è che qualcuno si offenda in una società dove tutti si offendono perché se scrivi poveretto Cognetti ha scritto il romanzo sulla valle Stura premio diciamo che ha vinto parecchi per molto bravo eccetera ha detto qualcosa ma lui la usava per la sua fiction che non andava la vallata si rivolta tutti e no non doveva dire così siamo offesi quanto chieda scusa io non chiedo scusa è affatto bene noi non pensiamo più di gente che si offende e dobbiamo chiedere scusa ci sarà sempre qualcuno che si offenderà il punto non è andare a offendere qualcuno se uno offende ad personam l'attacco ad personam non va bene in filosofia non è accettato ma se qualcuno si sente offeso per un ragionamento di comprensione che io faccio e che tocca la sua sensibilità morale o intellettuale quel qualcuno sa che in una società democratica liberale quell'offesa è il prezzo che abbiamo per la nostra libertà per la nostra crescita in una società dove noi alla fine cominciamo ad autocensurarci perché gli altri non si offendano o a ridurre la filosofia a pillole edificanti perché così tutti siamo contenti il disastro è dietro l'angolo dicevo perché aggiungo questa cosa che avevamo toccato un po' all'inizio noi non li avoriamo più con quel livello sotterraneo pulsionare il mostro a più testi di cui parla Platone che in realtà è sempre lì e se non te ne prendi cura non tiri fuori ogni tanto parole di verità non fai anche il motto di spirito ogni tanto che ci sta non fai anche qualche cosa che è un po' fuori da un orizzonte culturale eccetera quel mostro alla fine da qualche parte e rompe noi siamo una società dove il mostro sta irrompendo ovunque proprio nel momento in cui sembriamo tutti delle educande non è un caso certo certo assolutamente questo io credo che abbia a che fare anche con la disapitudine proprio alla sofferenza cioè in fin dei conti e questo è un tema che a me sta molto caro anche perché uno dei nomi che su Deilicogito emerge di più è quello di Epiteto Epiteto ha scritto delle pagine straordinarie proprio sul fatto che l'atto di pretendere di aver ragione perché ti sei offeso è legato proprio al fatto di non saper gestire quella reazione che ha a che fare con i tuoi impulsi che però è tua cioè se io mi sento offeso da qualcosa ci sono due strade una è quella di considerare come dovrebbe fare una persona ragionevole quell'offendersi come occasione di esplorazione cos'è che mi ha offeso quali sono le pulsioni che questa parola questa frase questa occasione ha toccato in me cercherò di conoscerle meglio sono mie e sono affar mio fondamentalmente l'altra strada è quella di dire mi sono offeso quindi tu devi stare devi stare zitto devi essere messo a zittire in tutto questo c'è l'elefante nella stanza secondo me di ogni dibattito pubblico attuale che è l'incapacità di gestire l'insicurezza che diciamo ma anche la sofferenza noi siamo in una società anestetica palliativa in cui cerchiamo sempre la l'appiglio divertente l'infinite gest di david foster wallace che è sempre il sentirsi fighi il sentirsi arrivati il sentirsi perfetti il sentirsi totalizzanti e questo in realtà è una risposta al fatto che la vita è fatta di enormi e continue sofferenze e finché tu le metti sotto il tappeto a un certo punto poi esplodono in quel mostro a mille teste che alla fine poi ti mangerà tutto perché è inevitabile c'è una forma che è molto paradossale che mi è sempre incuriosito cioè di fronte a fenomeni di sofferenza come lo scacco il fallimento la fragilità c'è tutto un discorso che ha cominciato a dire ma guardate che sono esperienze bellissime ma dovete essere fragili lo scacco è una cosa magnifica la fragilità vivetela con serenità al livello cognitivo pensa un po' il caos in un giovane che vive queste cose sono devastanti perché il fallimento non piace a nessuno anche se falliamo tutti costantemente e però gli viene additato come una cosa bella il punto è invece andare a lavorare su questi temi e ritirarli fuori la filosofia l'ho fatta al punto che Platone diceva a calco filosofia su filoponia cioè amore del dolore di una certa fatica ma non perché fosse masochista perché la vita è attrito con reale e questo crea un certo dolore quindi se avviviamo tutta la vita nel dolore no il problema è allenarsi il problema è imparare a gestirlo quel dolore se imparato a gestire non diventa più l'autocelebrazione della sconfitta ma diventa il movente il movimento di crescita perché Platone esaltava la fatica e il dolore perché era un atleta e sapeva che Sinner quando vince gioisce sul campo dietro ci sono anni di autodisciplina di dolore di rinunce di scacchi che devi imparare a gestire se l'allenatore di Sinner gli avessi detto ma guarda che bellissimo gli stai sconfitti goditela vai a casa non ti allenare per una settimana va bene così come sei non ti allenare domani non sarebbe il campione che è campione misurato controllato straordinario batte arriva a fare quello che ha fatto a farci vincere la Coppa Davis perché ha affaticato ha affrontato il dolore però quel paradigma lì lo abbiamo nello sport ad altissimi livelli nella scuola abbiamo deciso di toglierlo perché nella scuola diventa anche dolorosa la penna rossa quindi via la penna rossa perché potrebbe essere gravemente offeso l'alunno è colpito toccato i voti ma magari togliamoli diciamo che sono tutti da dieci lo vedo mia figlia voti altissimi perché se no poi poi incontreranno la realtà a 22 anni la realtà si dimostrerà devastante e cosa fanno? crisi devastanti perché nessuno è intervenuto lo deve fare la scuola? no non lo deve fare la scuola la scuola deve fare il suo lavoro cioè tornare a mettere voti tornare a un po' di disciplina di severità so che sono parole che non piacciono ma a me piacciono e in famiglia ci dovranno essere dei momenti di costruzione della personalità tramite i no tramite quella che in psicanalisi si chiama la castrazione noi dobbiamo smettere di assecondare le debolezze dei più giovani assecondare le loro debolezze è il modo per distruggerli e distruggerci anche noi perché comunque noi siamo io e te siamo in una fase una generazione di passaggio però la nostra generazione deve avere l'onestà di non annusare l'aria e cominciare a fare questi discorsi edificanti che rimuovono questo lato grezzo, scuro, faticoso di corpi sudati no, quella roba lì è fondamentale è vitale è per Platone forza vitale quella di Unamisli noi dobbiamo andarcela a riprendere e rimetterla in gioco assolutamente sì ti dirò di più io credo di essere invece parte di una generazione che infatti io lo vedo in molti miei coetanei che in realtà ha iniziato a vivere in quella bambagia in quell'ovatta io in effetti se analizzo la mia vita mi rendo conto che io ho passato un'adolescenza ovattata certo con difficoltà e via dicendo però in modo assolutamente come se tutti gli spigoli fossero comunque in qualche modo smussati e ho avuto la fortuna di rischiare di morire cioè nel senso io mi rendo conto che ho avuto un colpo di fortuna a un certo punto nella mia tarda adolescenza ho avuto un evento medicale della mia vita che mi ha fatto rischiare di morire se io non avessi avuto quell'evento lì sarei diventato quel 22enne 23enne che si aspettava che il mondo fosse a disposizione questo ha rafforzato in me ed è uno degli eventi che mi ha avvicinato drasticamente poi alla filosofia perché prima la leggiucchiavo io ho detto eh no aspetta lì c'è qualcosa che va scandaliato è perché la filosofia continua iseneca lo stesso Socrate nel fedone quel discorso straordinario mentre lui è circondato dei suoi allievi che lo piangono e dico ma Socrate ma scappa cazzo scappa e lui dice ma perché devo scappare ma sei matto perché devo scappare mi sono educato per tutta la vita a morire immaginate se adesso io devo andarmene che sto per morire adesso che sto per raggiungere il mio più alto desiderio che dici ma sembra una roba paradossale perché? perché siamo diseducati alla morte io mi rendo conto che ho avuto una fortuna l'esperienza della morte che è l'esperienza che simboleggia poi il massimo della sofferenza della perdita del fallimento mi ha permesso di dire aspetta un attimo c'è qualcosa che va ricalibrato e quella e io guarda ci penso spesso e dico che io sono stato fortunato in questo ma se una persona non incontra quell'occasione in modo casuale via dicendo fino ai 25 anni a 25 anni 26 27 anni poi arriverà il tram sui denti perché la realtà la puoi negare ma le conseguenze della realtà non le puoi negare e a quel punto si troverà senza armi allora a quel punto la morosetta con cui ha passato gli ultimi 6 anni che magari cambia perché è una persona autonoma sarà per lui una minaccia esistenziale e allora la guerra che si scatena diventerà non l'occasione di dire aspetta che approfondisco ma l'occasione di affermazione dei propri bias e siamo completamente così siamo sopraffatti dalle nostre piccole ideologie e questo ci impedisce di avere qualsiasi azione nel mondo ed è drammatico l'altra cosa appunto ci impedisce di agire di fare delle azioni perché noi siamo ormai una società molto colta acculturata e questo da un lato sembra un po' rassicurarci perché rispetto a una generazione precedente si va molto di più all'università eccetera dall'altro uno dei rischi per quello la cultura non è il palliativo contro tutti i mali è di entrare in un gioco di codici simbolici dove ognuno al suo che maneggia bene che lo applica la realtà eccetera ma poi viene messo da parte ad esempio un desiderio di azione quello di cui parlavo citando Dodds all'inizio rispetto a una società della vergogna dove Ettore a un certo punto deve agire ecco noi sembra che il momento di parlare non finisca mai c'è un parlare continuo un modello di quello dei social poi e poi poi non so cosa fare quindi mi viene l'ansia ecologica non ricordo quella ragazza ma io ho l'ansia ecologica e scoppia in lacrime e scoppia in lacrime e se tu dici questa cosa è ridicola vieni accusato del peggio io ho fatto un video in cui ho detto l'ecoansia non esiste ecco no l'ecoansia se ce l'hai te la fai passare non perché il problema ecologico non sia grave è grave ma non può produrre ecoansia no esatto l'ecoansia te la controlli tutte queste cose e il fatto che poi alla fine noi citiamo Epiteto Platone i filosofi antichi non è un caso da un certo momento in poi la filosofia diventa sapere discorsivo e anche bellissima a volte ma perde il contatto con cosa? con l'arte della vita la filosofia antica invece nasce davvero come arte della vita ma non a caso Platone con i discorsi scritti con i libri che oggi noi a volte anche feticizziamo come luogo dove tutto andrà bene saranno produttori di trasformazione lui ce l'aveva quei libri ma no i libri sono un gioco se io scrivo sto giocando non sono una sorta di pupazzi giocattoli perché poi devono essere costruiti bene interessa il dialogo vivo interessa l'azione politica perché a un certo punto lui prende disastroso e va in Sicilia prova a fare qualcosa stiamo parlando comunque non di un vecchio impazzito stiamo parlando di Platone si costruisce una palestra apre la sua accademia non era una biblioteca era una palestra c'era dell'allenamento era un atleta in fondo era un sinner dei suoi tempi pensiamo noi abbiamo la figura sempre di cacciare il filosofo ma pensate un grande atleta Platone era questa roba qui quindi con il nostro sapere accademico abbiamo un po' dato l'idea che in fondo dopo aver fatto tutti questi discorsi abbiamo già fatto il nostro mestiere basta fine e questo però dà una sensazione di enorme impotenza perché com'è possibile che il mondo continui così nonostante io abbia preso il dottorato e abbia scritto tutto questo tutto questo ormai dovrebbe andare bene cosa non funzionano così anche perché poi quello ti dà l'illusione di avere le chiavi della verità non ce l'hai spesso anzi comincia a pensare quando rimetti in discussione tutto questo ovviamente usiamo le parole d'ordine sono quelle capitalismo e il patriarcato e la democrazia che in realtà è una forma di fascismo perché poi sono sempre i soliti ritornelli come dici che questo è patriarcato anche se non c'è nella democrazia vedi il fascismo anche se evidentemente non c'è e poi è un'esplosione cognitiva quando ti trovi che la donna che dovrebbe rappresentare il peggio del patriarcato e del fascismo è la prima donna eletta e questo crea io capisco che ci crea i problemi io non sono di essere non l'ho votata però prendo atto che la prima che è arrivata su viene da quelli che sono considerati più patriarcali ma questo non dovrebbe cominciare ma perché lei è più patriarcale dei patriarcali dovrebbe mettere un po' in discussione quella roba lì dovrebbe mettere in discussione all'inizio ha creato un po' di imbarazzo poi ha creato le scorciatoie più qualcuno di onesto lo ha anche riconosciuto e quando qualcuno in Parlamento ricordo gli disse ma lei non è guardi che veramente io non vado dietro a nessun uomo sono qui quindi anche lì di fronte alla realtà anche se non rientra nei nostri schemi provare per una volta a cambiare punto di vista anche cambiare parole d'ordine il problema è che il io mi sbaglio o il ci devo pensare non va di moda non fa engagement e non crea like e adesso a questo torniamo vorrei prima di andare avanti ricordarvi che gli attritti nella vita sono tantissimi bisogna affrontare le sofferenze si può anche imparare ad evitarne alcune per esempio mettere in sicurezza la connessione internet con lo sponsor di oggi NordVPN chi non è prudente rischia di perdere cose importanti e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa e su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accapparrarsi i tuoi dati sei uno studente che usa l'hotspot universitario? sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati ma non solo ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate e grazie ad Helicogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso parlavamo di filosofia come arte della vita adesso veniamo al nocciolo della filosofia perché tante persone che seguono Helicogito ovviamente non sono avvezze alla filosofia non l'hanno studiata magari la iniziano a conoscere dai libri che consiglio e via dicendo e mi rendo conto che in questa epoca è vero la filosofia è un discorso non è più una disciplina del sé e questo è un grave problema perché in realtà io che parlo molto dei Marco Aurelio gli Epiteto e i Platone mi rendo conto che io stesso ho usato la filosofia in questo modo non me ne è mai fregato niente di stare cioè io per esempio all'università non ho mai voluto starci perché non volevo stare nella biblioteca volevo usarla per affrontare quei miei demoni che sentivo nell'accademia questo spesso viene perso e allora volevo chiederti come si conciliano queste due immagini della filosofia quella accademica della Torre d'Avorio dello studioso del ricercatore e quella invece della disciplina che ti permette di rafforzare quella parte dell'animo che ti serve poi a vivere meglio ma in fondo è un po' come pensare che l'università nella sua parte è migliore perché poi anche lì ci sono io ho avuto delle esperienze non in Italia devo dire però a Parigi ottime in accademia è come se sfornasse straordinari strumenti straordinari allenatori in certi contesti c'è un grande filosofo contemporaneo non accademico Sloterdijk che parla del filosofo allenatore ecco io ho incontrato dei buoni allenatori Jacques Derrida per me è stato uno straordinario allenatore ma non a caso l'università ha cercato in tutti i modi di farlo fuori e poi è uno dei più grandi filosofi contemporanei e questo già la dice lunga cioè allenatori che ti dicono io ti do degli strumenti ti do dei mezzi però a un certo punto poi devi calibrare su te stesso e devi fare anche cose che vanno totalmente al di là di me perché poi quella la vera capacità assorbire prendere connettere e far fare alla filosofia quello che non si aspetta c'è una formula che mi piace di un filosofo che si chiama Jean-Luc Tansy francese la filosofia è là dove non si trova quindi nell'università potete trovare qualche buon allenatore potete trovare dei buoni strumenti ma oggi non è più oggettivamente lì la filosofia la filosofia si sta muovendo altrove e spesso anche laddove non è nominata come tale penso in tanti letteratura contemporanea di auto quella che si chiama autofiction pensate Carrère pensate a scrittori di questo tipo cioè che fanno un lavoro al contempo su di sé mescolando finzione verità cioè potenziando una scommessa della verità usando la finzione sembra un paradosso ma talvolta si ha bisogno di una messa in scena quasi teatrale per tirare fuori le parti più profonde altrimenti vengono delle verità che ci autoraccontiamo e non sono così vere bene quelli secondo me sono straordinari pensatori nel cinema Nolan è uno dei filosofi contemporanei per me più importanti Oppenheimer è uno straordinario film su cos'è una pulsione ad andare in fondo alla realtà fino a perdere la bussola morale perché c'è anche quello c'è una pulsione alla conoscenza che può scatenare degli effetti devastanti e lo fa Nolan ed è un pensatore quindi per me l'università oggi è un po' nel margine di questa produzione benché produca ancora qualcosa di questo tipo quindi filosofia in chi ci ascolta uno può non aver studiato filosofia e può avere degli strumenti che prende tra letteratura cinema sport che fa eccetera per costruirsi che cosa una vita singolare abbiamo parlato all'inizio di colpa è una frase che a me piace l'unico senso in cui può valere colpa è di Lacan che dice l'unica colpa per un soggetto è di aver ceduto sul proprio desiderio cioè siete colpevoli se non coltivate la vostra singolarità e costruirsi una singolarità è duro è faticoso perché bisogna resistere a che cosa ma al desiderio ogni tanto di stare tranquilli nell'omologazione quelle rassicurazioni di quel consenso vuol dire a volte navigare da soli nel buio a vista con gli altri che vi sbattono quando vi dicono che stai facendo e continuare su quello cos'è il problema è Pollock quando decide di fare Pollock ma che cos'è questa roba è McEnroe quando decide di fare McEnroe e poteva anche comportarsi in maniera un po' più a modo eccetera ma perché deve giocare così quando arrivate al punto di essere davvero in contatto con quella vostra singolarità averla creata andate avanti su quello che poi significa essere in qualche modo tutt'uno cioè trovare la propria la chiamava ecceità che è l'ecceità mi ha fatto venire in mente una delle scene che io amo di più nella storia del cinema del mio film preferito che è Papillon quello del 73 non quello del 2018 in cui c'è Steve McQueen a un certo punto fa questo sogno straordinario Papillon fa questo sogno in cui si trova nel deserto e lui cammina nel deserto vestito di tutto punto e si trova davanti a una fila di giudici che gli dicono sei ora nel tribunale e lui gli fa ma io non ho ucciso quel borseggiatore no quello sfruttatore ma non è questo il crimine il tuo è il peggior crimine che un essere umano possa compiere e allora qual è? io ti accuso di aver sprecato la tua vita e lui se ne va dicendo colpevole colpevole e se ne va dicendo ed è esattamente quello quindi il concetto di colpa ecco questo è veramente sottile il concetto di colpa non può mai trovare il suo valore nell'accusa cioè non è tu hai la colpa di ma il guardarti allo specchio e dire io ho la colpa di allora una società matura è quella in cui la colpa non è quella introiettata quella di un certo cristianesimo del peccato originale di quella religiosità denunciata da Nietzsche che poi porta all'uomo ad essere schiavo delle proprie pulsioni ma è quella colpa in cui tu dici certo io sono colpevole di aver sprecato delle occasioni sono colpevole di quello che dice Marco Aurelio non essere stato all'altezza della mia vita delle occasioni che la vita mi dà e questo è vivificante mentre l'altra colpa ti martirizza in un modo irrimediabile questo che dicevi di Marco Aurelio che poi lo riprende dell'esercito cioè l'unica etica possibile è essere all'altezza di ciò che accade nel modello stoico tu alla sera prima di andare a dormire dovresti fare questo lavoro sono stato all'altezza di quello che e vedete che non sempre lo siamo e ci sta però il punto è se poi diventa un'abitudine non esserlo perché crea problemi quello che considero un maestro perché a me la parola maestro piace ancora credo che ci debbano essere dei maestri poi li devi anche uccidere ma c'è il momento dove devono lavorare questo è meglio non essere maestro di altri giusto se no poi qualcuno ti accoppa a una certa età succede Derrida diceva ogni tanto quando poi io mi sveglio la mattina scrivo e scrivo delle robe poi quando ci penso dico ma perché ho scritto mi creo un però è quello perché è evidente che ogni tanto uno dice ma potevo non dirla quella cosa no? in questa cogitata potevamo evitare almeno quell'argomento in realtà abbiamo presi proprio tutti ma tutti non abbiamo evitato neanche uno neanche uno stasera cosa ci diremo siamo stati all'altezza? ce lo chiediamo dopo domani mattina ci mandiamo il messaggio ma hai visto che casino che abbiamo combinato è quello però ecco se non c'è un po' di fuoco da qualche parte se non brucia si brucia non funziona quindi la questione della colpa sono d'accordo è di fronte allo specchio che io posso dirlo ma non la modalità per cui c'è qualcuno che chiede a te che confessi la tua colpa questo non è accettabile in nessun contesto a meno che tu non sia proprio a processo altrimenti è una modalità da inquisitori e l'intellettuale poliziotto che ti chiede no adesso tu in quanto perché può essere sempre in quanto qualcosa quello che un giorno è sul banco degli imputati o della cosa cambia un giorno sei maschio un giorno dopo magari sei bianco e ci finisci anche in quanto donna e poi sei oppure di colore ma bene stampe e ci finisci in quanto tale Zizek lo ha mostrato bene con la sua ironia straordinaria occhio perché il gioco delle minoranze vittime il giorno dopo tu ti trovi tre carnefici perché c'era sempre una minoranza della minoranza della minoranza e allora io sono una casalinga di colore LGBT su cui non puoi fare eccetera eccetera ad infinito quindi solo allo specchio puoi fare quel tipo di lavoro lì ed è un lavoro che la filosofia almeno per come la condividiamo diventa un straordinario strumento è qualcosa per accordarsi è un strumento per accordarsi con non so che ti direbbe col proprio demone col proprio demone ma è così in realtà c'è una bellissima intervista di Foster Wallace in cui lui dice a un certo punto io ammiro gli artisti perché l'artista nel produrre la sua opera si vede che è quello che è cioè quando Francis Bacon compone la crocifissione è lui è come McEnroe che è McEnroe ci sono delle occasioni che la vita ti pone di fronte per accordarti per armonizzarti poi la perderai quell'armonia perché lo sappiamo non è che una volta raggiunta ci sei per questo che Nietzsche cambiò il motto conosci te stesso in diventa te stesso perché tu dovrai sempre diventare è come se fosse un assintoto nel senso tu ti avvicini sempre di più poi a un certo punto però cambia tutto e devi ricominciare da capo che è anche una grande sfida è così ma pensa cioè l'evoluzione io poi uso sempre gli atleti perché mi piace portarla sul lato fisico e tu devi anche a volte trovare il modo per ritrovare te stesso quando cambi quando cambiano le potenzialità le tue capacità non si è fioso per sempre bisogna appunto cambiare prospettiva allenarsi e Muhammad Ali a un certo punto finisce in prigione scusate viene condannato poi in prigione non ci finisce però gli viene sospesa la possibilità di combattere quando ritorna sul ring non ha più la velocità di prima non ha più quel gioco di gambe e deve affrontare a Kinshasa George Foreman che è un gigante e tutti gli dicono usa il tuo no lui deve cambiare deve reinventarsi passerà tutto il tempo sulle corde a incassare e poi vince all'ultimo con una combinazione ecco il punto è sapere che dobbiamo essere pronti a cambiare continuamente a trasformarci se ci irrigidiamo il rigidimento di tipo mentale è lo stesso che un atleta che non cambia il suo modo di giocare a seconda del contesto eccetera non è un buon atleta ecco un cattivo filosofo è quello che ad ogni contesto vi ripropone intrimediamente la stessa formuletta la stessa formuletta è colpa di questo è colpa di quello ovviamente è sempre colpa di qualcun altro sempre colpa di qualcun altro sai mi hai fatto venire in mente prima parlando del maestro per terra del ridà per me è stato Franco Volpi e io mi sono reso conto grazie a lui di tutti quei momenti in cui mi stavo io rigidendo perché io mi ricorderò sempre questa cosa quando io ho cominciato ad ammirare Franco Volpi quando seguivo il suo primo corso quando io ho cominciato l'università io ero ancora quel diciannovenne che voleva fare filosofia per diciamo guidarsi un tono o guidarsi un tono e lui entra e la prima cosa che fa è cominciare a fare battute su Nietzsche ok e io mi sono sentito scandalizzato perché dicevo cavolo ma come ma come tu hai è un corso che parla dello Zaratustra e tu entri e fai delle battute di basso rango peraltro mi parevano su Nietzsche da spogliatoio e quindi subito io ho sentito ho sentito una ritrosia ho detto no non può essere così non può essere così però poi per fortuna per vari vicissitudini soprattutto perché era uno dei cazzoni che volevano stare in aula anche a ridere io ho cominciato a vedere in questo atteggiamento un metodo cioè il metodo del contraddire le aspettative sai su YouTube capita spessissimo uno dei commenti che ricevo di più è beh ma un filosofo non dovrebbe un filosofo non direbbe un filosofo non farebbe non parlerebbe di cinema non userebbe un linguaggio volgare tutte cazzate peraltro mi venga a dire e mi rendo conto che invece il ruolo del maestro ma poi anche del filosofo è quello lì è contraddirti per questo che il filosofo è il tafano è quello che ti infastidisce perché tu ti approcci a lui aspettandoti che ti dia ragione ma è il politico che ti darà ragione filosofo ti fa un mazzo così con i suoi concetti ed è quello che deve fare perché se tu non sai più sorprenderti e sorprendere i tuoi preconcetti con la filosofia allora non stai facendo filosofia guarda l'idea proprio della filosofia questa idea che uno si aspetti qualcosa della filosofia è veramente incredibile perché se c'è una forma di saperanza è forse l'unica da cui non puoi aspettarti nulla perché può farla in qualsiasi modo è proprio la filosofia se c'è un genere letterario che li ha usati tutti è la filosofia tutti i generi letterari li ha usati dall'aforisma alla poesia al romanzo all'autobiografia al saggio alla confessione al teatro poi ci sono anche stati filosofi che non hanno fatto hanno usato il corpo e di oggi di oggi nel cinico usa il dito medio come forma di provocazione quando viene invitato a una festa quindi voi potete passare da tutti i registri il più basso al più alto mentre la versione kitsch anche se invece sembra quella di filosofia è quella del filosofo che parla di temi altissimi Dio con un linguaggio nobilissimo e metafisico quella è una caricatura quella è il filosofo così che si dà il tono ma il filosofo serio sa cambiare tutti i registri un po' come la divina commedia che è una straordinaria opera filosofica sa passare dal registro basso del cul che si fece trombetta fino a usare un linguaggio che è quello del paradiso noi dobbiamo tornare a fare quello tutti i registri a seconda dei contesti anche qui un'altra cosa oggi è quella di una pulizia o di neutralizzazione del linguaggio politicamente corretto che in certi contesti diciamo si può anche comprendere ha avuto anche una sua efficacia se portato in ambito intellettuale dove invece non ci dovrebbe stare è la preclusione del pensiero io devo essere libero di usare tutti i registri compreso quello che in greco si chiama la escrologia cioè il linguaggio turpe ma perché dovrei utilizzare il linguaggio turpe? perché in certi contesti per entrare in contatto con delle parti pulsionali che tutti abbiamo io devo andare a utilizzare quel linguaggio perché non posso parlare in termini angelicati come lo stil novo se io devo parlare di pulsioni di questo tipo la filosofia greca lo sapeva ci sono stati generi letterari che usano e mescolano il linguaggio alto e il linguaggio basso dobbiamo riprenderci tutta la libertà che la filosofia durante la sua storia ha esercitato pagando anche il prezzo perché se c'è qualcuno che ha pagato il prezzo di questa libertà di pensiero che è libertà di temi libertà di linguaggio e di direi non rinunciare a niente come l'inconscio è la filosofia e i filosofi e molto spesso l'hanno pagato la filosofia oggi sta rinunciando a troppe cose e se rinuncia a troppe cose non ha più nessun rapporto con la verità fa un gioco di opinione ben pensante edificante che non lascia la minima diventa un corollario e sono molto d'accordo su questo sai si discute molto c'è questo dibattito aperto la filosofia diventa sempre più marginale al crescere delle discipline tecniche scientifiche però non è vero non è vero perché se io prendo un tema come quello per esempio della natura della coscienza io mi accorgo che in realtà per quanto abbiamo un sacco di avanzamenti nell'ambito della comprensione del cervello e della neurobiologia ci mancherebbe poi tu hai anche pensatori anche biologi Antonio Damasio per esempio che però cercano di dire continuamente guardate che il problema della coscienza rimane un problema eminentemente filosofico uno degli autori anche lì vedi i maestri anche se non è un maestro perché per me è un maestro qualcuno che incontri di persona invece è un maestro soltanto etereo Thomas Nagel è un autore con cui ho fatto a pugni perché io nel periodo in cui ero un neo darwinista convinto proprio riduzionista io ho incontrato mente e cosmo e lo sguardo a nessun luogo che adesso sono due libri che io consulto sempre continuamente e Nagel con i suoi attriti di nuovo gli attriti la filosofia ti dà attriti così come te li dà la vita mi ha permesso di rimettere in discussione alcune mie idee sorprendermi insufficiente e quindi necessitato a rimettere in discussione a reimparare e questo è fondamentale la filosofia ha ancora una sua specificità che è quella dell'attrito che ti impone di incuriosirti di nuovo il tema che sollevavi della coscienza rapporto mente cervello eccetera era estreminentemente filosofico a tal punto che proprio recentemente io stesso ho avuto un colpo di quei colpi ben assestati liquidavo sempre tutte alcune teorie contemporanee che vedono il pensiero dappertutto anche nelle piante eccetera come una di quelle robe para new age panpsichismo eccetera resto ancora perplesso su certi punti però leggo l'errore fondamentale di Galileo che è un libro molto interessante di un filosofo che vi dice fa questo ragionamento ecco essere colpiti da un ragionamento che ti spiazza guardate che l'unico punto della materia che noi vediamo dall'interno è il nostro cervello e cosa troviamo pensiero ergo è anche possibile ipotizzare che la materia a tutti i livelli sia pensiero accidenti vedi come mi ha colpito con un argomento poi la sviluppa molto articolata però è un bel pensiero ben costruito ben assestato ecco dobbiamo saper dare questi colpi e naturalmente me lo dirà la scienza no la scienza vi dice come funziona l'essenza delle cose ma non che cos'è il TST il che cos'è resta una domanda filosofica e domande filosofiche cosmologiche oggi restano totalmente aperte e restano a pannaggio dei filosofi quindi anche lì spostarsi sempre dal discorso morale che sembra l'unico su cui ci si può muovere e tornare a porsi domande di tipo cosmologico anche al di fuori del pianeta Terra la filosofia torni come faceva la filosofia prima anche a occuparsi di altrove se c'è un tema che consideriamo kitsch e meglio non affrontare UFO adesso ci mettiamo anche gli UFO ma così siamo a poco abbiamo inanellato tutto manca Red Rogni e poi la serata è conclusa no si parlava di UFO no no sto scherzando sto scherzando Kant parla della vita extraterrestre i presocratici si pongono c'è tutta una tradizione guardate che porsi il problema della vita extraterrestre è un problema ragionevole ragionevole questa cosa qua a me manda i matti perché se c'è una cosa che la filosofia ti insegna è che non c'è nessuna domanda che non puoi porti ok uno dei libri più belli che io sono molto appassionato di astronomia per esempio io ho seguito con grande passione tutta la vicenda del James Webb Telescope è bellissimo ok però una delle cose più belle che ho letto sul cielo è l'eternità attraverso gli astri di Auguste Blanchy che è un testo puramente metafisico poetico bellissimo sulla incomparabilità della vita umana rispetto alla vita dell'universo ora è un testo del 1830 1840 con ovviamente dei mezzi limitati ma il mezzo che non è cambiato per niente da allora ad oggi è la mente cioè la capacità di produrre un discorso e di porsi delle domande che ti permettano di nuovo è di guardarti allo specchio con uno sguardo diverso non è cambiato e io che non sono un idealista credo che il panpsichismo o comunque l'idea che tutto quello di cui fai esperienza passa necessariamente per una forma mentale sia ma non solo un pensiero interessante è una verità assoluta riuscire a non cadere ovviamente nelle tentazioni di mentalizzazione totale è importante però riuscire a pormi io ho avuto un ospite qua qualche mese fa che è Federico Faggin ha scritto un libro che è irriducibile in cui lui prende il panpsichismo di antica memoria di Plotino e cerca di applicarlo in una teoria fisica quantistica ora mi convince del tutto no ma è interessantissimo e lasciarsi aperta la possibilità di porsi queste domande è l'essenza stessa della filosofia io direi come allenamento mentale sempre porsi queste domande che vengono da un altrove assoluto significa ogni tanto anche riposizionare la vita perché se no il rischio è di essere sempre più chiusi e il cosmo diventa altro che geocentrismo diventa il mio quartiere è il mio quartiere ma di più la mia camera la mia cucina è un cosmo e cioè no prendiamo questi questi viaggi interstellari sono danno respiro al pensiero danno respiro ogni tanto ti sganci da tutto questo ne capisci davvero in qualche modo lo relativizzi questo il grande pensiero lo ha sempre fatto il nostro pensiero sembra invece è sempre più legato asservito all'attualità la domanda che gira oggi è questa e quindi e poi cambiamo è quella del giorno dopo e siamo di nuovo lì ed è un continuo un continuo rincorrere il tema del giorno ogni tanto essere veramente fuori sincroniato con tutto questo guardare come si vive dalla luna il nostro pianeta è un bel esercizio sai qual è il problema di questo il problema è quella che viene chiamata la FOMO ok la fear of missing out noi siamo circondati da questo rumore informativo in cui alla fine dei conti abbiamo cominciato a interessarci delle cose che interessano è il si di Heideggeriana memoria ok è il si dice il si fa il si pensa che ormai è l'unica dimensione che permette a un individuo sempre più insicuro di se stesso di dire ok se questa cosa si pensa allora posso pensarla anch'io se di questo si parla allora forse posso metterci anch'io una parolina però se invece sento di avere un mio interesse che esula dalla moda dal trend allora no è inesistente cioè la dimensione della coscienza soggettiva è diventata talmente soverchiata da questo rumore che ormai non ci crediamo più noi non crediamo più di avere uso una parola pesante di avere un'anima e attenzione con l'anima io non intendo quella cosa di nuovo che valica i corpi no io intendo quella dimensione soggettiva con cui puoi avere una relazione assoluta soltanto tu quando ti fai quella domanda serale sono stato all'altezza lì tu senti la tua anima non c'è nulla da fare non la senti più perché perché ti dai si parla il si dice ed è la dimensione che peraltro è esplosa ovviamente anche con con internet e che ci lega sempre ai trend del momento la questione di internet secondo me a un certo punto dovrà essere affrontata in termini di di registri perché è evidente che noi ormai passiamo tanto tempo lì siamo siamo in questo momento lì no siamo qua siamo qui e siamo anche lì ma e io credo che sia giusto così perché questo è uno dei terreni di gioco e bisogna giocare anche su questo terreno inevitabilmente ma di nuovo a me premeva pensare proprio all'origine della filosofia che si è posto al problema strategico di piani diversi su cui muoversi Platone che scrive i suoi dialoghi cioè che sono il suo momento esoterico diciamo il suo facebook il suo instagram il suo youtube rivendicava in qualche modo una presa di distanza da quello e un altro spazio di pensiero e di lavoro le dottrine esoteriche non scritte cioè il momento in cui io mi prendo per pensare ma non che questo non è il momento di pensiero poi ci sarà dietro più livelli più registri non un solo registro perché qui usiamo anche un registro linguistico inevitabilmente diverso scrivere in maniera diversa su più registri io ho un esercizio che ho sempre fatto e ogni tanto faccio anche cortocircuitare queste cose l'ho fatto un esperimento pochi giorni fa scrivo sui social di solito in maniera comprensibile vengo anche apprezzato perché ma come sei chiaro eccetera ho scritto una recensione a un libro di Recalcati e siccome era su un sito di un certo tipo avevo la libertà di scriverlo in maniera diversa tecnica Recalcati l'ha posta sulla sua pagina i commenti sono non si capisce niente ma chi è questo ecco noi che sottoscriviamo la pop filosofia dobbiamo anche che c'è anche un diritto a non farsi capire da tutti o al meglio non farsi capire da chi non ha voglia di fare lo sforzo di capirmi su un altro registro guarda qui rispondo in una porta aperta perché l'idea di non assecondare le richieste del pubblico è una delle regole fondamentali ogni tanto vi do qualcosa che non vi piace bisogna assolutamente bisogna assolutamente anche perché è un metodo di selezione ma soprattutto di riaffermazione di quello che interessa a me se io se io non facessi quello che faccio perché interessa a me meglio farsi abbattere quel punto lì capito e peraltro in questo mi sembra che ci sia oltre al discorso della proprio della perdita della coscienza c'è anche quel tema che viene affrontato spesso però in modo secondo me poco attento il fatto che tutto esiste soltanto quando è pubblicato uno dei motivi prima ne parlavamo prima dell'inizio della puntata uno dei motivi per cui io ho eliminato la mia vita privata è perché ho cominciato a dire mi rendo conto che questo ha un pericolo anche per me cioè l'idea che tutte le esperienze che faccio trovano almeno una parte del valore sulla reazione che avrà il pubblico riuscire a riapproparsi di momenti privati totalmente privati è fondamentale per esempio al compleanno di Federico ok tu devi sapere che Fede detesta i kiwi ok ed è un hater di Maurizio Merluzzo adesso l'abbiamo detto pubblicamente così insomma l'abbiamo detto pubblicamente io qui senza filmarlo senza le videocamere soltanto con noi qua a deriderlo gli abbiamo regalato una scatola piena di kiwi con la foto di Maurizio Merluzzo sopra la cosa è stata esilarante ma ha acquisito un connotato ancora più bello perché questo è un ricordo che abbiamo noi cioè la sua faccia le reazioni oggi noi quelle cose lì le pensiamo già per come verranno viste quando saranno pubblicate altrimenti non esistono e invece ci perdiamo quella parte che è meravigliosa del ricordare e condividere con pochi intimi un'esperienza che nessun altro vedrà che è quello che dicevi con Platone perché la dimensione dell'accademia platonica è quello io posso andare al fondo della verità soltanto con pochi intimi con cui condivido un codice che non è linguistico ma è esistenziale e quella roba lì su internet non lo puoi fare esatto e c'è questa dimensione della condivisione esistenziale non e Platone aveva proprio questa roba qua cioè condivido racconto tutto nei libri ma le dotine non scritte voi non le saprete mai i poveri studiosi di Twibbingen che si sono accagniti per andare a cercare sono rimasti con un pugno di mosche in mano perché c'era veramente una resistenza ma che non era una resistenza elittaria era la resistenza di chi se vuoi arrivare a quel livello lì vieni qui in palestra e ti allegni cioè fai quel tipo di fatica poi è evidente che faccio anche qualche cosa per di altro tipo io oltre a filosofia pratico arti marziali è una cosa che trovo bellissima arti marziali coreane si chiama warando una pratica straordinaria molto bella filosofia un allenamento molto duro quello che vedo dei maestri che mi fa sorridere rispetto e che amo moltissimo rispetto alla vulgata non venite nella nostra palestra non venite non venite guardate che qui è durissima ci sono palestre più belle dove vi potete divertire stare bene qui se volete venire vi dovete addestrare a dei livelli che vi faranno male lasciate perdere questa è la modalità con cui invitano è una modalità magnifica noi ci dobbiamo essere in momenti in cui diciamo a molti lasciate perdere ma è anche una prova la questione delle prove di mettere alla prova l'altro vi do delle prove c'era un aneddoto molto bello di Eco che scrive il nome della rosa gli editor lo leggono bello tutto bello però quelle pagine dove descrivi il portale della cattedrale cioè perdiamo un sacco di lettori toglie non ci penso nemmeno quelle pagine sono chi supera il portale della cattedrale avrà diritto a entrare te lo guadagni la filosofia è per tutti quelli che hanno voglia di fare un po' di fatica ma me la devi spiegare in maniera divertente mi serve la pillola voglio sì mi serve la pillola poi mi serve la pillola in sbagliati modi mi viene la filo ansia perché non capisco sì 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 quindi questa cosa qui è rimettiamola in circo un po' di non comprensione è buona ricostruiamo le prove cioè nel senso ricostruiamo prima di tutto per noi in tutti gli ambiti in cui possiamo guarda questo questo è un messaggio fondamentale prima di lasciare però e passare un po' alle domande del pubblico una domanda canonica che si fa a tutti gli ospiti ed è citami tre opere che per te sono state veramente importante anche al di fuori della filosofia narrativa quello che ti pare che per la tua formazione sono state veramente significative allora devo metterci in primo luogo perché è l'opera per me che ha cambiato la vita un'edizione una vecchia edizione Mondadori di Critone Fedone si impose apologia di Socrate tutto inizia da lì quindi per me Platone resta tale poi devo dire La montagna incantata La montagna incantata è stato un romanzo per me straordinario che ho letto in abbinata all'altro sono rimasti Moby Dick sono due cose per me straordinarie perché parlano di esperienze di trasformazione estrema di coloro che si mettono in gioco veramente fine in fondo in modi diversissimi uno con l'ingovernabile perché per me il Moby Dick è l'ingovernabile e l'altro invece con un'interiorità piena di fantasmi di spettri di lati oscuri in cui va a fondo e va a fondo veramente e quando ha fatto tutto quel viaggio interiore mentre Moby Dick è questo viaggio oceanico è preparato per tornare nel mondo ridiscendere dalla montagna ecco salire sulla montagna e fare un viaggio oceanico Platone l'altro è per me il mio maestro che è appunto Derrida quando lessi spettri di Marx fu un'esperienza straordinaria perché Derrida che non era marxista era stato antimarxista per tanti anni quando tutti avevano smesso di essere marxisti lui arriva a scrivere spettri di Marx io inizio a leggerlo non capisco assolutamente niente ma penso qui c'è qualcosa che mi sfida qui c'è una prova e sono ancora lì che la sto attraversando quella prova certo molto bene molto bene cosa dici siamo stati all'altezza lo diranno ci guarderemo allo specchio questa sera e lo capiremo da noi vediamo grazie mille Simone è stato veramente bellissimo grazie Rick adesso se siete in live non uscite perché rispondiamo a qualche domanda a chi invece è indifferita condividete sapete cosa fare insomma e andate a conoscere cosa metto il profilo facebook i tuoi libri evidentemente scrive un sacco di libri questo uomo quindi insomma potete tranquillamente recuperarli e ci rivediamo alla prossima ciao 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 ciao